Meglio uscire separati. Tu aspetta qui. Volco! Buttati a terra! Volco! Oddio! Dove ti hanno ferito? Qui, al fianco. Dobbiamo arrivare alla macchina. Non può essere scappato. Devo averlo colpito. Andiamo all'ospedale. No, sei matta. Cretino, ma che fai? C'è il sangue. Non parte. Prova con la manovella. No, non salire. Va a casa. Ti cercherò io. Va a casa. Ma io... Sta zitta! Fa come ti dico. Non c'è storia finché non ci si sta in mezzo. Noi che non siamo popolo, non siamo plebe, non siamo eroi. Siamo gente che della propria immobilità, del proprio corto orizzonte, come delle proprie squallide avventure, fa tante piccole odissee a paradigma di una realtà della quale rappresentiamo il tronco e il concime, di cui siamo le fondamenta e la copertura. Entriamo qui? Come ti può piacere questo locale pieno di operai e contadini? Dio Concetta, ma io ho voglia di ballare. Ma non ci pensi a cosa dirà il babbo. Basta non farglielo sapere. Permetti un babbo? Grazie. No, non ci scusino, ma siamo venuti per andare via. Mi permette questo babbo? Mi permette questo babbo? Grazie.